Intelligenza artificiale e giustizia sono i temi del futuro ma sono anche i temi del presente. Come ordine dei avvocati di Milano abbiamo voluto fortemente organizzare questa settimana di dibattiti, di confronti con avvocati, giudici, imprenditori, esperti delle nuove tecnologie. È questo che serve alla professione, che deve essere contemporanea e interpretare le istanze della società.